ciao a tutti cari amici di youtube benvenuti bentrovati in un nuovo video allora oggi siamo qua per fare un video richiesto quindi un tanto tutto grazie per tutte le varie richieste che comunque mi avete fatto anche per i video interattivi grazie per tutti i commenti bellissimi che mi avete mandato in questi giorni grazie per tutti i vostri riscontri tra l'altro per chi li volesse leggere li ho salvati su instagram sulle storie in evidenza quindi ho fatto una cartella con scritto riscontri quindi se ve li siete persi sul mio profilo instagram potete andarli a cercare lì e ringrazio veramente di cuore tutti quelli che mi hanno scritto su whatsapp dandomi appunto diciamo il benestare per fare lo screenshot del commento del riscontro che mi avete mandato ovviamente in anonimo e insomma mi avete permesso di pubblicarli nei social prima di iniziare naturalmente voglio ringraziare anche tutti quelli che si sono iscritti al canale allora dicevamo che oggi sono qua per questo video richiesto il titolo del video è se ci sarà un incontro quindi un video molto semplice che però effettivamente mi fate notare che da un po che non non facevo più sul sul canale quindi l'avevo fatto molto tempo fa però adesso sono qua di nuovo a rifarlo per questo video utilizzeremo tre tipi diversi di sibille uno è il mio oracolo che è questo l'oracolo di creodice allora qualcuno diverse persone anzi in questi giorni mi hanno mandato dei messaggi chiedendomi come fare per acquistare le mie carte queste l'oracolo di creodice ma anche tutti gli altri mazzi che ho personalmente creato tra cui il più rettonato è il i messaggi dal cuore cioè le carte che utilizzo per la canalizzazione del pensiero allora se andate sia sopra sul mio albero dei link trovate tra i vari link a disposizione quello proprio dove c'è scritto mi sembra i miei mazzi e i miei oracoli insomma una cosa del genere adesso non ricordo esattamente però comunque se guardate lo trovate lo capite al volo oppure se visitate il mio sito alla voce le mie carte potete trovare diciamo tutte quante le indicazioni sui miei mazzi e potete trovare il link diretto diciamo che vi porta in questo sito dove appunto è un sito esterno quindi non è mio il sito è un sito appunto dove è possibile acquistare le carte diciamo praticamente funziona così che voi fate l'ordine e poi le carte vengono stampate e inviate dove avete deciso di far vedere capitare quindi pagate direttamente lì e tutto quindi io semplicemente ho fornito diciamo l'idea grafica e il design di questa di queste carte ci sono vari mazzi a disposizione quindi ecco per chi me l'ha chiesto questa è la procedura vi ricordo sempre che sempre tramite questo link tri albero dei link che vi ho messo sopra e che vi lascio anche sotto in descrizione è possibile visitare appunto il mio sito avere il collegamento diretto con whatsapp con il mio whatsapp per comunicare direttamente con me e anche per la mail e ci sono anche tutti quanti i miei social quindi vi ricordo anche che per chi non l'avesse ancora fatta potete rivolgere alle mie carte una domanda gratuita sia su whatsapp che per email e vi ricordo sempre che potete contattarmi agli stessi recapiti se invece desiderate fissare un appuntamento per un consulto privato con me bene detto questo direi di andare a fare i nostri tre mazzetti di oggi vi ricordo che la domanda è se ci sarà un incontro quindi andiamo intanto a prendere l'oracolo di cleodice quindi le mie carte le mie sibille diciamo perché è un oracolo comunque ispirato alle sibille che potete se volete appunto acquistare perché comunque i significati sono scritti sopra le carte e queste carte verranno utilizzate per la variante numero uno quindi il cristallo trasparente quindi vediamo un po allora vediamo se ci sarà un incontro questo è la prima variante seconda variante queste non sono non sono misibili ma è la carta della vera sibilla vediamo se ci sarà un incontro per la variante rosa un incontro fra voi e la persona che avete nel cuore infine questo è l'ultimo mazzo con la gran sibilla del destino per il cristallo azzurro ecco qua e andiamo a fare la nostra lettura quindi variante numero uno vi ricordo che la domanda è se ci sarà un ritorno vi ricordo che questa è una lettura collettiva è una lettura interattiva diciamo di gruppo per cui è possibile anche che questo video non vi risuoni è possibile che la variante non sia quella giusta voi cercate di essere molto concentrati nella scelta della variante se comunque diciamo una variante non vi risuona sentitevi liberi magari di cambiare o di cambiare video insomma ecco cercate di capire che comunque sia naturalmente c'è differenza fra una lettura interattiva e un consulto privato quantomeno può accadere allora quindi variante numero uno cristallo trasparente vediamo se ci sarà un incontro scusate allora vediamo cosa ci dicono le carte dunque dunque diciamo che probabilmente stiamo parlando di una persona che potrebbe essere più grande di voi e che diciamo nonostante questo non è una persona che si comporta diciamo compatibilmente con quella che è la sua età anagrafica cioè anche se non è un uomo molto grande diciamo che si presuppone che per la sua età dovrebbe essere più maturo di quello che è invece a causa di comportamenti diciamo proprio di immaturità diciamo suoi purtroppo si è venuto a creare un blocco un blocco che sembra essere appunto in atto in questo momento è una situazione sicuramente che vi genera uno stato comunque uno stato d'animo sicuramente non positivo diciamo che è una persona che con questo blocco e con questa diciamo situazione comunque di come dire di comportamenti forse inadeguati al rapporto e inadeguati comunque anche diciamo a quello che è forse ripeto quello che lui dovrebbe essere per voi in questo momento ok diciamo vi vi crea comunque sicuramente una situazione comunque di malessere una situazione diciamo sicuramente in stato d'animo negativo allora che cosa viene fuori da queste carte? l'incontro vero e proprio diciamo almeno un incontro serio impegnativo dove ci possa essere effettivamente una situazione di sblocco fra di voi purtroppo io non lo vedo l'unico incontro che posso vedere è un incontro diciamo un po' superficiale diciamo perché comunque questa carta che è la carta della leggerezza in realtà parla anche di qualcosa quindi un incontro uno scambio delle parole delle situazioni proprio di tipo leggero quindi potreste incontrarlo sì ma diciamo che è probabile che sia necessario prima di questo incontro mettere un punto come fare tabula rasa di tutto quello che comunque c'è stato fra di voi fino adesso quindi cercare diciamo di far sì che si disponga anche questa persona diciamo ad un incontro dove si mettono un po' a tacere diciamo tutte quelle situazioni che comunque sia vi hanno portato magari a questo blocco quindi è come dire rivediamoci in maniera spensierata cercando però di spazzare via un po' tutto quello che è trascorso cioè il momento di smettere con le recriminazioni questo sostanzialmente ci stanno dicendo le carte perché comunque è vero che probabilmente la colpa di tante cose è sua diciamo causata anche diciamo di questa immaturità ma l'unico modo per ridare una scienza a questa situazione è quella di appunto mettere un punto e cercare di come dire mettere un attimo da parte tutte le situazioni pregresse cioè come se fosse un po' inutile in questo momento andare a rinvangare il passato quindi con questi presupposti le carte dicono che effettivamente ci potrà essere un incontro per voi questo era il risponso per quanto riguarda la variante numero uno quindi la variante trasparente andiamo ora a vedere per quanto riguarda la variante rosa ricordo anche a voi della variante rosa che questa è una lettura collettiva una lettura diciamo ampia quindi è chiaro che potrebbe succedere che una variante non vi risuoni quindi nel caso siate liberi di cambiare variante oppure di passare a un altro video vi ricordo che la domanda è se ci sarà un incontro quindi variante numero due e variante rosa vediamo che cosa ci dicono le carte allora diciamo che qui più che altro c'è un incontro che potrebbe saltare o di essere ostacolato da qualcuno che in qualche modo rema contro di voi si tratta di un incontro quindi potrebbe essere diciamo rimandato ok quindi l'incontro ci sarà ma forse con ritardo diciamo che questa persona potrebbe avere degli impedimenti legati comunque a qualcosa che ha a che fare comunque con la sfera lavorativa che in questo momento sembra diciamo avere in qualche modo la come dire una priorità importante nella sua vita le carte dicono che la persona a cui voi state pensando sta passando un momento di vita suo e quindi non nei vostri confronti particolarmente difficile diciamo che si trova probabilmente in una fase di mancanza di stimoli o comunque di mancanza di stimoli di stima di se stesso dove gli sembra che tutto sia in decadimento diciamo intorno a lui dove gli mancano proprio le forze comunque anche per fare le cose probabilmente perché ci sono state alcune situazioni che non sono andate molto a suo favore ultimamente cioè diciamo che come dire le situazioni non sono state proprio il massimo per lui però per lei insomma però le carte dicono che questa persona ha desiderio di vederli che ci sarà comunque un incontro anche di tipo intimo fra di voi quindi qui potrebbe esserci non solo un incontro privato quindi non è un incontro diciamo in un ambiente comunque con altre persone non è una situazione diciamo tra virgolette pubblica ma si tratta comunque di un incontro vostro intimo dove è prevista anche la possibilità che ci sia un contatto fisico comunque fra di voi però diciamo che fa un po' fatica probabilmente questa persona a diciamo riuscire ad essere come dire a far fede all'impegno di incontrarvi insomma magari darvi un appuntamento e poi rispettarlo quindi potrebbero esserci diciamo in qualche modo dei ritardi dovuti al fatto che in primis c'è una persona diciamo nel vostro menage che in qualche modo rema contro di voi volente o nolente, cosciente o non cosciente diciamo che però fa delle azioni che in qualche modo possono andare a ledere appunto la possibilità che voi vi incontriate magari anche non volendo si mette in mezzo e crea delle situazioni inoltre ci potrebbero essere degli impegni di tipo lavorativo o economico per cui lui o lei sarà costretto a rimandare questo incontro perché ripeto in questo momento anche in relazione a questo abbattimento morale che questa persona sta passando ci sono sicuramente delle priorità che questa persona deve necessariamente rispettare che sono di ordine appunto più pratico quindi diciamo che in alcuni momenti deve fare delle rinunce e deve necessariamente dare maggiore spazio a degli impegni appunto di lavoro o di soldi che purtroppo sono in questo momento più importanti ma non perché voi non siete importanti ma perché naturalmente senza far fronte a questi lavori poi già la situazione secondo me non è rosea dopo veramente diventa cioè la situazione peggiora ulteriormente bene questa era la lettura per quanto riguarda il cristallo rosa adesso andiamo a vedere per quanto riguarda la terza variante quindi cristallo azzurro che cosa ci dicono le carte ricordo anche a voi del cristallo azzurro che si tratta di una lettura interattiva di una lettura collettiva quindi se questa variante non vi risuona ascoltatene un'altra se volete oppure cambiate video nelle mie playlist ci sono tantissimi video quindi potete anche magari trovarne un altro che vi si adatta maggiormente allora andiamo a vedere anche per voi della variante azzurra qui abbiamo una situazione di qualcuno che in qualche modo rema contro allora qui io vedo diciamo una situazione molto positiva di incontro in realtà diciamo che ci può essere non solo un incontro ma anche un piccolo spostamento insieme a questa persona o comunque potrebbe anche essere che ci possa essere la necessità di spostarsi per vedersi allora qui io diciamo mi si prefigurano due possibili come dire interpretazioni di alcune di queste carte ovviamente essendo un interattivo quindi non potendo parlare con voi e quindi confrontarmi con voi ve le do entrambe allora ascoltatemi bene dunque qui ci può essere da un lato una situazione nella quale voi vi spostiate per vedervi oppure facciate magari un piccolo spostamento per un momento comunque di proprio di stare insieme anche comunque a livello di sessualità a livello comunque di incontro intimo ma anche proprio di divertimento quindi magari non lo so una piccola gita un piccolo viaggetto una cena da una parte in un posto un po' diverso dal solito allora e in questo caso però cosa dicono le carte? che potreste dover fare attenzione a non farvi vedere a non farvi scoprire perché magari questa situazione potrebbe attirare sguardi indiscreti oppure potrebbe essere viceversa che vi spostiate o che vi dobbiate spostare proprio per fuggire da sguardi indiscreti cioè è chiaro che in queste due interpretazioni la linea di differenza è molto sottile però diciamo ecco fate comunque attenzione cioè sicuramente in entrambi i casi è probabile che voi siate una coppia che deve comunque fare attenzione agli sguardi indiscreti ok? e in ogni caso fate attenzione attenzione e comunque sicuramente è meglio spostarsi per evitare ciò per evitare appunto di essere individuati da qualcuno che non che non diciamo è necessario che non come dire che è meglio che non vi veda allora potrebbe essere che abbiate un legame di lavoro con questa persona con la quale vi dovete vedere o potrebbe essere semplicemente che questa persona non può farti vedere per qualcosa che afferisce alla sfera dei soldi che quindi potrebbe avere una persona essere impegnata con una persona e magari non poterla lasciare per un vincolo economico diciamo che c'è qualcuno comunque che in qualche modo sicuramente come era uscito anche per quanto riguarda la variante rosa c'è qualcuno che in qualche modo rema contro questa situazione rema contro questa storia in ogni caso la cosa bella veramente di questa stesura è che entrambi volete fortemente questo incontro e che proprio grazie alla determinazione cioè di voler stare insieme di voler passare dei momenti insieme questo incontro comunque secondo le carte ci sarà si realizzerà l'unica cosa ecco fate un attimo attenzione a questo avvertimento che le carte vi danno rispetto alla possibilità comunque di persone che in qualche modo vi possano vedere e che possano eventualmente fare dei pettegolezzi riguardo al vostro incontro quindi attenzione a dove andate attenzione a dove vi spostate attenzione a cosa fate ecco a non dare troppo nell'occhio se ovviamente è vero che la vostra relazione per ora è bene che rimanga diciamo un po' nascosta ok bene questa era la lettura per quanto riguarda il cristallo trasparente spero che chi mi ha chiesto questo video sia stato all'ascolto e che sia insomma soddisfatto dell'esito della lettura io vi ringrazio per avermi ascoltata fino a qua vi mando un grandissimo abbraccio un grandissimo bacio e come sempre vi do appuntamento al prossimo video a presto a presto